Mentre andava a Mastia doveva accendere la sigaretta, sapete è un gran fumatore, a quella curva ben precisa perché se non faceva ciò sicuramente la settimana non andava come doveva andare. Ma a parte questo Maurizio fin da quei tempi che ha iniziato a giocare insieme a noi e poi a fare l'allenatore era già un professionista in quel momento e lui era già convinto che quello dovesse essere il suo percorso e la sua strada e con la sua perseveranza è riuscito ad arrivare dove è arrivato e questo è tutto merito suo.